Salve a tutti. Stiamo attraversando un momento della storia. Non è facile, lo so, ma per momenti eccezionali ci vogliono comportamenti eccezionali. Bisogna rimanere a casa. Chi deve uscire per lavoro, io so in che stato d'animo lo faccia, con tutti quei comportamenti che ci hanno detto, è anche uno stato d'animo non leggero. E quindi gli sono molto vicino. Ma chi invece può rimanere a casa? Lo faccia. Gli amici si possono incontrare anche con i social, si possono riscoprire ovviamente libri, documentari, film, si possono riscoprire tante piccole cose lasciate in casa. Guardate, c'è un concetto molto importante da considerare. Tutto questo non è per sempre, è per un periodo temporaneo. E allora facciamo, rimaniamo a casa. Ricordate che questo è un virus molto suddolo, rimane in silenzio per molto tempo prima di emergere, un po' come uno squalo in acqua. E allora noi non entriamo in acqua. Noi di Ulisse, di Stanotte A, abbiamo già interrotto le riprese, le trasferte, ovviamente, già da qualche tempo. E stiamo lavorando in attesa appunto che tutto passi. Lo facciamo con riunioni virtuali, mandandoci dei messaggi, i testi, eccetera. Ma stiamo distanti e stiamo a casa. C'è un concetto che mi piace molto, che una volta ho sentito. E cioè che una persona che salva un'altra persona è un eroe. Ma se questa persona ne salva dieci o cento, è un infermiere o un medico. E sono proprio loro i nostri eroi e possiamo aiutarli, stando a casa e aspettando. Vi prego.